...dell'arbitro che ha rilevato un contrasto irregolare dello stesso Fier. La concitazione di questi momenti, la difficoltà della nostra postazione microfonica ci fa vedere soltanto parzialmente la partita. La rete di Fier, ripetiamo, è stata annullata, ma è dal tiro e segna! Ed è valido Baldinetti, Baldinetti per il Recco ha 2 minuti e 0,5 secondi, è valida ed è 2 a 0. Adesso le due squadre giocano in parità, considerando che il Recco ha perso per 10 a 8, ma dopo 2 minuti e 10 secondi vince. Credo che abbiamo mangiato ormai tutte le mani e le unghie. Perché vedo che la squadra cerca ma non trova l'energia per fare, la partita ormai è più sul piano fisico e su questo forse gli olandesi sono più avvantaggiati. Avete visto d'altrui? D'altrui per... per Baldinetti! D'altrui per Baldinetti! E Baldinetti non sbaglia, 7 a 5. Il commento di Cevasco, di forza dicevo! Un gol di forza, bellissimo veramente, ha fatto una cosa strepitosa! Mi ricorda un gol Cevasco che ho visto a Belgrado in una finale di Coppa! Mabbia è qui quando mi ricordo sono è qui tutte le due due intelligence delwoods